ben ritrovati nuovo su review in you brevissima recensione di questa stazza stupenda che ho acquistato ad un prezzo stracciato su amazon 4,50 euro mi lascio il link in descrizione perché non è facile trovarla ci sono diverse tazze questa è di superman veramente carina anche come idea regalo impacchettata per bene e l'ho acquistata appunto a questo prezzo e devo dire che non è di plastica come alcune tazze ma è proprio di ceramica guardate come arriva appunto arrivare intorno di questa plastica quindi la confezione di amazon di cartone ma anche questa il pluriball che vi permette di di preservare diciamo la tazza quindi arrivata veramente senza nessuna crepa la potete mettere nel microonde la potete lavare all'interno della lavastoviglie per questo prezzo è davvero carina la vado a togliere dalla confezione e ve la mostro come dimensioni poi sono quelle normale di una tazza c'è la parte davanti e la parte anche dietro c'è anche quella di batman tra l'altro per gli appassionati di supereroi ma anche per un bambino è veramente un'idea carina link descrizione e alla prossima review